E' stato il Gran Galà delle Proloco al Teatro della Fortuna di Fano ad alzare il sipario su quello che sarà il Natale che non ti aspetti. Un ricco programma natalizio che attraverso l'Umpli mette in rete gli eventi di 26 borghi della provincia pesarese vestiti a festa con le loro proposte più variegate dedicate a famiglie e ai più piccoli. Un momento di festa per i volontari delle 26 Proloco riunite per un'occasione a teatro aglietata anche dalla comicità del San Costanzo Show. Dunque pronti a partire con più di 120 dal 23 novembre all'Epifania. Apriamo le porte in Natale per quanto riguarda i nostri piccoli territori che fanno tantissimo. Un grazie sicuramente a tutti i volontari, al comitato provinciale che è qui, che ha organizzato anche quest'anno questo appuntamento in tutti i borghi facendo una squisita rete nei nostri territori, in questi territori. Quindi un prodotto che sicuramente dovrebbe essere esportato in tutte le marche creando dei bei circuiti e magari perché no, come dico sempre, un bellissimo brand in tutte le marche per il Natale. In un periodo dove magari non è canonicamente turistico, quindi aiutando il commercio, aiutando i nostri paesi, magari riscoprendo i nostri piccoli borghi. È stata una serata di successo all'insegna della condivisione, della unione tra tutte le proloco aderenti che quest'anno sono 26, è stato presentato in anteprima il calendario contenenti tutti gli eventi natalizi che partiranno dal 23 novembre e termineranno con l'Epifania, quindi il 6 gennaio. È un grande evento di promozione da parte delle proloco, un gran galà all'interno di una cornice meravigliosa come il Teatro della Fortuna di Fano, dove non solo noi promuoviamo tutti gli eventi che ha fatto la ConfCommercio e le proloco durante l'anno, ma promuoviamo anche tutto l'impegno dei volontari all'interno delle proloco. Quindi diventa un modo per riuscire a dir grazie ai tanti volontari, a dir grazie alle proloco che operano sul settore e continuare questa partnership tra ConfCommercio e le proloco. Per noi era importante poter ospitare questo evento proprio nello spirito di collaborazione che ha il Teatro della Fortuna con tutto il territorio. La scelta di questa nuova gestione del teatro è quella appunto di collaborare con tutta l'associazione e cercare di promuovere le eccellenze. Quale migliore occasione di questa per poterle mettere in mostra?